Oh, scala media. Sì, stessando il vidrio qua. Vediamo che la suscita. Vediamo che la suscita, questa perrae. E sta via che va in goppia qua. Poi c'è il viaggio. Ma non conosciamo tanta casa. Ma ci prendiamo tutto il casino. Questo è tutto il casino che stanno facendo il disco. Ci prendiamo apparteni. Viene. Buon anno mami. Ma ci prendiamo tutto? Ma ci prendiamo migliare? Anche io sono un po' più. E' da rì. Mi penso sono un po' più. Sì, c'è una scala che puoi comprare tutte le parti. Ma ripeto questa casa? se tu quanti pilastri sapete ingerire niente non importa che ti prendiamo come fare il servizio per l'America tieni qualche parente, lo farei salutare io non voglio niente ringraziamo i Dio, non stiamo tanto male stavamo fatto tutti i lavori che stanno facendo tanto a voi pure a Polo che venne a Polo vabbè ma qua non si può fare si 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 fa evidente questo è il vecinello questo è il vecino questo è il vecino il vecino ma qua non lo puoi proprio lo can dire fa pochi giorni Questa è la Casa di St. Giovanni, è una casa di St. Giovanni. Questa è la casa di St. Giovanni. Questa è la casa di St. Giovanni. Qua era una piazza di Bucezza. Volevo fare questa casa di St. Giovanni. in America. il postiglio vedi? qui sono un ambasciato con la zina se sento la camera però va alla neve la senti? se ne metto la neve se ne metto la neve ecco è bello carita si, qua viene la diglia in mezzo qua la piazza la piazza la piazza poi qui sono brutti sotto la chiesa qui vieni qua se ne voglio vieni qua vieni qua vieni qua l'arcopatime se ne vanno vieni qua questi anni ho trovato eh noi vieni qua vieni qua vieni qua Grazie a tutti. 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 Il nostro grazie, la nostra riconoscenza e il nostro invito a seguirci sempre. Grazie a tutti. 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 Io mi auguro che per il primo tratto quello che interessa la mia comunità per la prossima estate possa essere completato. La ricollega alla realtà civile di Napoli e del Salernitano e di Avellino stesso, almeno per questo c'è da sperare che il processo di ricostruzione possa essere anche ricostruzione culturale per le nostre popolazioni abbandonate da secoli nell'anza dell'Alta Valle del Sere nella quale vi è calabrito. E cos'altro ci può dire dei paesi vicini, Colliano, Valva, Senergia? A che punto sono? È un processo avviato, quella della ricostruzione di queste zone, di questi paesi limitrofi, più o meno si va disperatamente avanti, le difficoltà certe volte sono insormontabili. Va detto che lo Stato che pur riconosceva nella ricostruzione un impegno di preminenza nazionale, così come testualmente dice la legge, ha dato nei primi tempi un suo supporto, un suo aiuto concreto. Ma ultimamente, ahimè, credo che il terremoto non sia più in prima pagina, forse non è neppure nell'ultima pagina dei nostri quotidiani. Se ne parla troppo, troppo poco e quindi anche per questo è caduta quella tensione dei primi momenti, per cui le pubbliche amministrazioni sono lasciate certe volte a loro stesse e difficilmente riescono a fare sempre bene. Sono intervenuti inoltre esponenti della comunità italo-americana e la serata è terminata tra l'entusiasmo della gente per la presenza in sala del loro primo cittadino, Marina Giordano Raiusa Mio. Grazie a tutti. 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 operai che hanno cercato di fare quel lavoro che io ho disegnato. Poi io vorrei ringraziare il sindaco e tutta la gente del comune, gli autisti che tante volte mi hanno preso all'aeroporto e mi hanno portato qui per controllare i lavori. Per me è stato un piacere lavorare a Calabrito. Grazie. 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 E io spero che trovi la sua libertà per l'eterno, per l'eterno. E io spero che trovi la sua libertà per l'eterno. E io spero che trovi la sua libertà per l'eterno. E io spero che trovi la sua libertà per l'eterno. E io spero che trovi la sua libertà per l'eterno.